ciao ragazzi bentornati sul canale oggi insieme a qualche amico siamo andati fino a Terracina per provare qui i trail della zona abbiamo sempre descritto i trail di Terracina tra i più belli del Lazio e oggi è arrivato veramente il momento di provarli e sono veramente curioso ci sarà un ragazzo della zona che ci porterà alla scoperta appunto dei percorsi più belli ma ho visto che il Iana ad esempio è veramente molto tecnico con tanti passaggi su loggia ci divertiremo sicuramente beh ragazzi vi lascio sempre la traccia del percorso in descrizione e adesso cominciamo il nostro giro dopo un piccolo pezzo pedalato in salita inizieremo finalmente i trail andiamo ahhh ahhh Belli questi pezzetti insaliti che ho, ciao! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì.